Dunque queste condizioni del tempo, la mancanza di pioggia, il sole, non aiutano certo a disperdere gli agenti inquinanti. A Milano e nella pianura padana la situazione è più grave, si cerca di correre ai ripari, invogliando i cittadini a lasciare l'auto a casa con sconti dei mezzi pubblici. A Roma invece si ricorre alle targhe alterne, ma quello che preoccupa sono i riflessi, le ricadute sulla nostra salute. Quasi un mese consecutivo di alta pressione, ma il sole e il caldo di questo inverno su tutta Italia non sono una bella notizia, perché nelle grandi città l'aria asciutta e che non si muove ha fatto salire l'inquinamento a livelli record. Il Natale più caldo da quando sono iniziate le rilevazioni rischia di essere anche uno dei più inquinati. L'alta pressione quando dura un mese è un evento estremo, i cui effetti negativi, la nebbia, lo smog, la siccità, sono diluiti, quindi si percepiscono un po' meno, ma sono altrettanto gravi. Anche questo fa parte del cambiamento climatico. A Milano, al centro della pianura padana, la situazione è più grave. Oggi è il ventiduesimo giorno di polveri sottili, oltre il limite fissato dall'UE. Il Comune cerca di invogliare i cittadini a lasciare a casa l'auto. Fino a Natale si può viaggiare sui mezzi pubblici con un solo biglietto al giorno. Trenordi invece lancia un ticket a 20 euro fino a giovedì 24 dicembre. Misure che si aggiungono a quelle già prese da giorni. Blocco dei veicoli inquinanti, riduzione del riscaldamento domestico, bike sharing gratuito, mezzi gratis per chi accompagna i figli a scuola. Il blocco del traffico che dava risultati un decennio fa ormai fa lasciare in garage ben poche auto. Euro 0 e diesel Euro 2 hanno più di 20 anni. A Roma, da inizio dicembre, i veicoli inquinanti sono fermi in tutta la fascia verde. E per la terza volta in questo inverno assolato, il commissario Tronca ha disposto la circolazione a targhe alterne. Oggi stanno ferme le dispari, domani le pari. A Napoli il blocco per veicoli inquinanti, dal lunedì al venerdì fino al 31 marzo. Livelli oltre la soglia consentita anche in altre grandi città italiane, come Firenze o Torino, dove settimana scorsa per due giorni i mezzi sono stati gratuiti, ma si è registrato un calo del traffico di appena il 5%. Forse il deterrente migliore è ricordare ancora una volta gli effetti che quelle minuscole particelle sotto i 2,5 microgrammi provocano nel nostro organismo quando entrano in circolo e penetrano i polmoni, e, secondo nuovi studi, anche nel sangue. L'asma, la bronchite, anche le polvoriti, soprattutto in persone anziane che avevano già magari qualche problema, e nei bambini. E anche però le malattie cardiovascolari, quindi l'infarto, l'ictus, la fibrillazione atriale, le aritmie, perché le particelle e anche i gas penetrano nel sangue. L'inquinamento nel mondo causa 2 milioni di morti, questo il dato sul tavolo della riunione di Parigi sul clima, chiusa pochi giorni fa, e in Italia per polveri sottili, biossido e ozono nel resto d'Europa.